Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto. Un Cartotto educational insolito perché come vedete sono seduto su un oggetto molto particolare. Opla! Qui ci troviamo su uno dei sentieri dei minatori, siamo a Latuil. Tra le miniere che la Val d'Aosta offre abbiamo la Magnetite a Cogne, la miniera d'oro nativo Chiamusira quindi a Brusson e qui in realtà abbiamo il residuo, il reperto di uno dei carrelli utilizzati su questo binario che vedete perché questo è il sentiero dei minatori, miniera di Antracite alla Latuil. Rimangono alcuni varchi chiusi, alcuni varchi aperti, alcune gallerie così chiamate di sondaggio. Immaginiamo il lavoro dei minatori nei periodi in cui la tecnologia non li assisteva come potrebbe essere ai nostri tempi. Qui abbiamo l'ingresso numero 9, questo è parzialmente in piccola misura visitabile, ingresso della miniera Granier. Il carrello è come dire con tutti i segni del tempo ma se provate a seguirmi andiamo piano piano possiamo fare solo pochi metri al buio e vi faccio percepire anche il freddo che è tipico delle gallerie delle miniere. Venite! Se noi ci avventuriamo appena appena, oltre ad alcune immagini esplicative, oltre a questi pannelli, vediamo proprio che noi da qui oscilliamo dai 1500 ai 1700 metri sul livello del mare. Immaginate il materiale che doveva scendere, essere lavorato, lavato, separato a valle e che sotto la montagna c'erano queste gallerie che si lavorava con mazza e piccone, anche con attrezzature che come immaginerete potevano mettere a rischio la vita dei minatori stessi. Qui c'è il segno di un impianto di illuminazione, la galleria si fa sempre più buia, potete scorgere seguendo il mio dito un cancello che chiude gli accessi, l'umidità è notevolmente presente. Se ci giriamo adesso, ringraziamo l'ammirabile operatrice, guardiamo che indubbiamente per noi comuni mortali non minatori il colpo d'occhio è eccezionale. A destra abbiamo poi il massiccio del bianco, vediamo una parte del dente del gigante, delle vette vicine ad esso. Abbiamo poi l'abitato di Latuil, altre case che scorgiamo dall'alto, però quello che davvero è da rimarcare, seguiamo il binario, guardate un pochino con me, è da rimarcare che è il tempo che è scorso e ci ha lasciato questi resti, ma soprattutto ci lascia l'idea che in Italia ci fossero e si potessero lavorare ed estrarre minerali ed altri materiali. Quindi vi invito ad una visita ci sono diversi percorsi, più o meno semplici, questo è già un percorso misto. Siamo stati per alcuni minuti minatori.